Tratto dal racconto Compagna di scuola di Maria Luisa. Dov'era la ragazza che sognava di diventare medico? Stavo cercando dentro di me le parole giuste. Quando, di nuovo, il telefono si mise tra di noi. Guardò il display e si drizzò sulla schiena. Amore, ciao, sì, sono ancora qui con Elisa. I muscoli del viso erano tesi e la bocca disegnava una smorfia strana quando le labbra si aprivano per far uscire solo monosillabi. Con un filo di voce rispose, sì, sì, scusami, lo so, hai ragione, è che non ci ho pensato. Non attaccare, devo chiederti se posso andare due giorni alle terme con Elisa. Posso? Posso. Quel posso è rimasto scolpito dentro di me. Non l'ho più dimenticato. Fissai i suoi occhi, erano spenti. No, non mi sbagliavo. La scintilla che li aveva animati in passato era scomparsa, uccisa da un uomo di nome Luca. Fissi rogzi. Grazie.